Pilates per gambe, addominali e glutei. Se non hai le cavigliere, puoi eseguire questi esercizi ugualmente. Io le uso per intensificarli. Cominciamo distendendoci da un lato. Porto le gambe leggermente in avanti. Da qui, attivo gli addominali e stringo bene i glutei. Con la punta del piede, porto il ginocchio alla spalla. Sviluppo, stendo la gamba e con il piede a martello torno. Di nuovo, punta, sviluppo, flex, torno. Ancora, punta, sviluppo, flex, torno. Continua così per 30 secondi. Riposo 10 secondi e inverto. Ovvero, tengo sempre la punta del piede. Con la gamba tesa, stacco, piego e torno. Fallo con me. Stacco, piego e torno. Ancora, stacco, piego e torno. Mi raccomando, addominali e glutei sempre attivi. Ultima variazione da questo lato. Tengo la gamba sempre tesa. Punta tirata, sollevo. Piede flex, torno. Ancora, punta, stacco e flex, ritorno. Il bacino guarda sempre in avanti. Facciamo riposare le gambe e intervalliamo con tre esercizi solo addome. Mi porto in posizione supina. Sollevo le spalle e le gambe le portano a 90 gradi. Quando espiro, tocco terra con un piede. Inspiro, torno ed espiro, cambio piede. Immagino che l'ombelico spinga verso il pavimento. E ovviamente gli addominali sempre attivi. Passiamo agli obliqui. Simulo una biciclettata. E il gomito tocca il braccio opposto. Cerco la torsione con il busto. Espiro quando ruoto. Immagino una forbice. Le spalle rimangono sempre sollevate e alterno gamba destra a gamba sinistra, tenendo sempre le gambe più tese che posso. Ripeto. I punti sono iniziati. I punti sono iniziati. I punti sono iniziati. I punti sono iniziati. Ripeto. I punti sono iniziati. Ripeto. I punti sono iniziati. Ripeto. Ripeto. I punti sono iniziati. Ripeto. I punti sono iniziati. Ripeto. I punti sono iniziati. Ripeto. Ripeto. I punti sono iniziati. primi tre esercizi con l'altra gamba, ovvero punta del piede, stacco, sviluppo la gamba, piede flex, torno, ancora. Inverto, gamba tesa stacco, fletto la gamba e torno, ancora, stacco, piego e torno. Punta, stacco, flex, torno, ancora, punta, stacco, flex, torno. Mi raccomando, il ritorno controllato, non avere fretta. Passiamo in quadrupedia, stacco braccio e piede opposto, senza inarcare la schiena, salgo e scendo. Addome attivo. Cambio esercizi. Gamba tesa punta, piego la gamba e passo in flex, spalle lontano dalle orecchie. Gamba tesa. Esercizio combinato. Mi posiziono con un ginocchio a terra e una gamba tesa. Adesso stacco il ginocchio di terra, slancio gamba opposta. Stacco, vado in plank, slancio gamba opposta. Ripeto gli ultimi tre esercizi con l'altra gamba, ovvero braccia e gamba opposta, sollevo e scendo. Stacco, vado in plank. Secondo esercizio in quadrupedia. Gamba tesa con la punta, piede a martello o fletto. Gamba tesa con la punta, piede a martello o fletto. Esercizio combinato. Gamba di terra, stacca. Gamba opposta, slancio. Stacco, vado in plank. Slancio gamba tesa. Stacco, vado in plank. Stacco, vado in plank. Workout completato! Ottimo lavoro! Scrivimi nei commenti cosa ne pensi. Spero che il video ti sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo allenamento!